Sono venuti fuori i difetti di zero. Abbiamo fatto un buon primo tempo, concentrati, tutti insieme. Nel secondo tempo è chiaro che con scelta di qualcosina una squadra del genere abbiamo occasione di fare gol, è un genere di qualità e niente. Non è normale che non può essere una partita dove il primo tempo abbiamo giocato bene. Adesso c'è da portarci le mani, lavare le maniche e lavorare, duramente, per affrontare questa trasferità di Filippo. Raccontaci l'episodio del terzo gol. Niente, Mattia è andato a saltare con l'attaccante, la palla è rimasta lì, forse Marco pensava che riuscissi, ma non è la questione individuale. credo che dobbiamo migliorare un po' tutti i miei atteggiamenti e niente, ma questo lo fai solo lavorando tutti i giorni insieme.